In questo episodio So, gente, buongiorno, visto che oggi si parte Allora, scusate un attimo di interruzione Oggi usciranno due video Questo è il racconto del giorno dopo che per me è oggi Che uscirà, non so, fra qualche ora Quindi così ve lo ricordo Oggi, ovvero stamani, dobbiamo fare la mia tech bag Ciao Allora Tanto che ho selezionato Lui, Kindle, super comodo Ma io leggo tutto dall'iPhone Perché non ho un iPad mini E mi compro iPad mini Questo lo butto stupendo Quindi mi porterò il MacBook Con l'alimentatore Ecco, il programma è uno Ormai lo sapete, ci ho fatto migliaia di video Magliette Lì c'è il coso Poi abbiamo Roba per il bagno E ora Qui c'è la parte più interattiva Perché dobbiamo prendere il caricatore di Apple Watch Dovete sapere che un grande peggio fa tutti i miei difetti Sono molto minimalista quando faccio le paligie a maglietta di oggi Quindi abbiamo Cravi cose Ok? Quindi Prendiamo anche Le cuffie Top A Berlino Un saltino di Apple Store Ho scoperto che è anche vicino al mio hotel Quindi Lo facciamo Non ti dico Oggi compriamo una iPhone Tare dice Però anche se servirebbe per le riprese Però Non lo so Un sintonino per lui Ho già un'ideina in mente Decevi di portarmi anche questo libro Che mi sono preso Qualche giorno fa Non l'ha di Troppo lungo Cioè È corto Però Vediamo com'è Se qualcuno ha già letto qualcosa Ditemelo nei commenti La cosa è bella di Lavorare col computer a scuola È che Mi porto Lo zaino da viaggio E Faccio prima Non mi do a portare i quaderni Di più oggi Le faccio le mie due orette E poi Stop Andiamo Faccio in me pelle Autogrill No ok Quello originale Perché stavo dicendo Che aveva cambiato Quello un altro ancora Mettiamo lo zaino qua sotto Che non ce lo rubano Magari E poi Estremamente Ho dormito in macchina È una cosa che tipo Non succede Mai E invece ho dormito in macchina Che piove Non piove Guarda che tempo Non piove Per miracolo Che bello Si riparte Siamo quasi arrivati Siamo quasi arrivati Vai Aspettiamo la sorella E arriva gente Ehi Ehi Eccoci Arriviamo lei Lei Vada Due Uno Vada Signюсь Questa Che La 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Signori, abbiamo studiato, abbiamo scritto un video, abbiamo fatto cose e fra poco si arriva. Ok, siamo quasi arrivati. If you wish to continue to read the video. Vai, siamo a Berlino, Weppe. Una volta che questo pioviscola c'è una spiglia sciolta e le scalette mettono molta più ansia a scenderle che a salirle. Che figo! Ovviamente abbiamo avuto il taxi, quindi ora stiamo aspettando il taxi. Bravi noi, bravi, bravi. Ok, veramente sopra tutte le aspettative. Veramente, veramente figo. Arrivati dopo quasi un'ora di taxi, stiamo arrivati. Vai. Posizionate le valide in camera, quindi ora si va a mangiare, giustamente. Qualche cosa? E' a bere un berrino. Cosa sono? Il berrino ti fa male a quest'ora? Sì. 23-23-24 Per ora, c'è viaggio. C'è viaggio, eh? C'è viaggio. Non ci vedete i veri acquisti. Io mangi tutto. Che schifo. Non vado a buttare, io mangio io il massimo. Sei bellissima. Oh oh. Quell'altro lì che ha preso i kitkat. Io sono l'unica persona sana. Guarda che bravo. Quindi, gente, siamo in camera. Per questo video può anche essere tutto, direi. Ci vediamo domani con un altro video. Sì, ragazzi, quel taxi era una roba assurda. Veramente assurda. Nel prossimo episodio. Ciao. Oh, no.